Nel prossimo servizio di Tiziano Raffaelli vediamo quali sono le situazioni più complicate e più rischiose che ci si può trovare a gestire a casa. Vediamo. Tagli, cadute, esplosioni. Sembra un campo di battaglia, invece è quanto può accadere nelle nostre, in apparenza sicure, case. È la cucina il luogo più pericoloso, soprattutto per le donne, ma non solo per quelle più anziane. Lasciare coltelli fuori posto, aprire una scatoletta, pulire frullatori senza staccare la spina sono gesti quotidiani quanto pericolosi. Compiere tutti i giorni, più volte al giorno, le medesime operazioni crea automatismi ed eccessiva sicurezza. Attenzione dunque a non abbassare la guardia. Scottature, abbigliamento inadatto, correnti d'aria che spengono inavvertitamente i fuochi, manici di pentole sporgenti costituiscono seri pericoli. Anche i più agili rischiano brutte cadute, per un tappeto nel posto sbagliato o per il mancato utilizzo di scale adatte. È necessario difendersi anche dall'insostituibile energia elettrica. Attenzione a non sovraccaricare le ciabatte volanti a fili danneggiati e lampadine scoperte. Bisogna staccare la presa del ferro da stiro prima di riempirlo d'acqua e la corrente generale prima di pulire i lampadari. Casa, dolce casa dunque, ma anche laboratorio chimico pieno di medicinali e prodotti tossici, da conservare in piccola quantità, in luoghi protetti, mai mescolati, mai privati delle etichette. E per dormire sonni tranquilli, no a decoder e tv incassati nei mobili, niente lampade coperte per creare atmosfera. E dai rischi in casa ai rischi che corre chi le case le costruisce. Sono ancora troppi gli infortuni in edilizia in Alto Adige. Floriana Gavazzine ha parlato con Maurizio D'Aurelio, segretario provinciale della Will Costruzioni. Ascoltiamo. Il settore edile è quello che ha pagato il tributo più alto alla crisi. Il forte calo dell'attività ha comportato anche un calo degli infortuni sul lavoro, ma non nella stessa misura in cui sono diminuiti addetti e ore lavorate. In questa provincia purtroppo assistiamo a un aumento degli infortuni mortali a fronte di una riduzione degli infortuni generali. Come si spiega? Io credo che oggi i lavoratori si sentano forse anche più ostaggi dei datori di lavoro, mancando il lavoro, per cui accettano probabilmente situazioni che fino a ieri avrebbero rifiutato, soprattutto situazioni di pericolo. E poi c'è la paura di perdere il posto di lavoro, questo è sicuramente un elemento che mette ansia anche ai lavoratori. Come si può intervenire? Io credo che le verifiche rispetto alle norme sono sicuramente un elemento importante. Però secondo me bisogna insistere molto di più su creare questa cultura, questa coscienza vera alla sicurezza con la formazione, magari già in età scolare, dei futuri lavoratori e dei futuri datori di lavoro. Il comitato paritetico edile si occupa anche di formazione, sviluppa volume di formazione importante sia per lavoratori italiani, tedeschi che stranieri con i mediatori culturali e devo dire che il feedback, la risposta è positiva. E' chiaro che i corsi non bastano fare una volta un corso per essere preparati, ci sono i corsi refresh, vanno fatti e soprattutto in ogni occasione di pericolo nuovo o di situazione nuova in un cantiere va informato il lavoratore, va informato il datore di lavoro e su questo stiamo lavorando. Si può dire che esiste la fatalità nell'incidente mortale in edilizia o tutti gli incidenti in realtà potrebbero essere prevenuti? Allora io preferisco dire che non esiste fatalità, se oggi riusciamo a far volare aerei e a far navigare navi credo che siamo in grado anche di poter lavorare senza rischiare la vita. E tra i lavoratori più rischio incidenti ci sono senza dubbio quelli stranieri, il perché con tutti i dati nella scheda di Ivana Buselli. Più di un quinto di tutti gli infortuni sul lavoro registrati in Trentino nel 2012, ultimi dati disponibili, vedono coinvolti i lavoratori immigrati. Un dato comunque in miglioramento rispetto al passato, sono soprattutto maschi impegnati nell'industria edilizia e manifatturiera e molto distaccata agricoltura. Lavori che prevedono attività manuali e spesso faticose. La percentuale che riguarda le donne, impegnate soprattutto come colfe e assistenti familiari o nelle ditte di pulizie, non supra il 27%, un dato comunque non trascurabile. In questa graduatoria al primo posto si collocano i rumeni, seguiti da albanesi, marocchini e serbi. Parlando di stranieri si finisce per parlare anche di situazioni di lavoro irregolare. Il Trentino si dimostra corretto nell'impiego della manodopera immigrata, lo dimostrano le ispezioni. Sempre nel 2012, oltre alle violazioni in materia di orario o di contratto, sono stati riscontrati 46 casi di lavoro nero, 42 dei quali nel settore dell'edilizia. Infine una curiosità, secondo uno studio è diversa la percezione sulle cause che provocano gli infortuni. Per gli italiani, ai primi posti, in ugual misura, ci sono disattenzione del lavoratore, fatalità, non utilizzo delle protezioni. Per il 63% degli stranieri si tratta di fatalità, seguita da altri fattori come ore eccessive di lavoro e pericolità dell'ambiente. Ed ora alcuni appuntamenti per oggi giovedì 19 giugno. A Trento Alvia oggi...